Da diverse puntate oramai reazioni a catena fa rima con Interregionali. Il trio di amici universitari Sena, Francesco e Michele infatti arrivano sempre alla fase finale e si confermano campioni pur avendo vinto ancora pochino. Nella puntata di ieri 11 settembre i tre amici si sono resi protagonisti di una incredibile intesa vincente e hanno rispolverato addirittura le elezioni di Antonella Clerici. La parola da indovinare era schiuma e la definizione data come indizio è stata Cosa non fa sapone per Antonella? Amadeus ha pensato si trastasse di qualche aneddoto legato alla loro cerchia di amici. In realtà gli interregionali, con ottima memoria e grandissima ironia, hanno preso spunto dall'esilerante telefonata che in una puntata della prova del cuoco del 2006 la conduttrice ebbe con una spettatrice un tantino confusa. Durante il consueto gioco telefonico Antonellina chiese alla signora Cosa faceva schiuma ma non era sapone e la donna rispose borra, altro termine per indicare il seme maschile invece che birra. Quel video ottenne talmente tante visualizzazioni da diventare virale e l'uscita della concorrente resta una delle perle trash della tv contemporanea. Sui social gli interregionali hanno raccolto una valanga di complimenti per la prontezza con cui hanno indovinato l'intesa vincente. Qualcuno ha scritto ma gli interregionali che citano il video della Clerici all'intesa vincente io li amo sono estasiato. O ancora Amadeus non coglie la citazione colta della borra e infine leggiamo Giuro che quando ho sentito come stavate formulando la domanda ho rischiato di strozzarmi con la cena da ridere.